Grazie a tutti. Vi chiedo pazienza, tanto domani sera è manemata. Non è rivolta a me, assolutamente, ma è un modo per stemperare quelle che sono le tensioni nel presentare il meraviglioso consiglio e messaggio della parola di Dio. Si può passare dalla sedia al pulpito, chiamiamolo così, al podio, nel poter testimoniare che Gesù può chiamare anime e cuori, ancora stasera. Siamo gradi al Signore di trovarci qui, non siamo qui, non è retorica, per essere ripetitivi, nel proporvi una nuova idea, una nuova religione. Questo è fuori dubbio e discussione, però siamo anche qui per dirvi una grande realtà. Non c'è salvezza senza Gesù. Quindi non è tanto porre l'accento che religione siamo, questo è secondario. Ma qual è il messaggio che tocca ai cuori? Gesù ha detto senza di me nessuno può venire al Padre. E quindi il nostro pensiero, il nostro impegno è quello di proporre la verità. Ora questa verità tanti la possono metabolizzare, tanti la possono meditare, valutare, ma c'è questa realtà. Si vive una sola volta, dopodiché dobbiamo presentarci davanti al Signore. E noi vogliamo dire, Signore, stasera con la tua parola tocca ai cuori affinché veramente possiamo essere salvati e cambiati dal tuo amore. Vi invito insieme a me per quanti hanno la Bibbia, ho già portato i saluti ieri della comunità di Secondigliano, di Gragnano, porterò anche i vostri saluti con il vostro permesso. Dio volendo vorremmo sempre vederci nelle vie del Signore, crescere, non solo allargarci perché mi sono un po' allargato, ma soprattutto crescere nelle vie del Signore, per i fratelli che mi conoscono. Ma è una gioia rivederci nella presenza di Dio. Quindi per quanto hanno le Bibbie, leggerò un passo insolito, ma accetteremo la sfida stasera, e non sono termini per poter attirare l'attenzione, per farvi comprendere che non c'è un passo adatto alla tenda, all'evangelizzazione. Ogni scrittura è ispirata da Dio. Quindi noi vogliamo dire, Signore, stasera parla al mio e ai nostri cuori. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 2, leggeremo questi versetti iniziando dal verso 6 fino al verso 10, e poi salteremo al capitolo 3. che è un passo che non è a caso, è correlato, è sequenziale, scusatemi, che mette a confronto dei maestri, dei professionisti, li chiameremo oggi, professionisti di settore. Conoscete voi qualche professionista? Oggi tutti sono professionisti. Se hai bisogno di una casa, devi andare dal professionista. Se hai bisogno di chi ti legge la mente, devi andare dal professionista. Se hai bisogno del matrimonio, devi andare dal professionista. Tutti sono diventati professionisti. E chi è il professionista dell'anima? Chi è il maestro dell'anima? Come si chiama? C'è qualcuno che ha il patentino per salvare? Se io ti posso salvare, chi ce l'ha? Qual è sta chiesa? Andiamo a vedere quello che ci dice la parola del Signore. Giovanni, capitolo 2, verso 6. Al Signore la gloria. C'erano là sei recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuna due o tre misure. Gesù disse loro, riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro, adesso attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma lo sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e disse, ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Tu invece, memorizzate questa espressione, tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora. Capitolo 3 dello stesso Vangelo ci parla di un altro maestro, questo è più particolare. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei, egli venne di notte da Gesù e gli disse, rabbì o maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Dal verso 9, Nicodemo replicò e gli disse, come possono avvenire queste cose? Ecco la risposta del maestro. Gesù gli rispose, tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? Amén. Fino a qui la lettura, la meditazione della parola del Signore. E quindi dicevo, metteremo stasera questi passi, li metteremo a confronto, ma metteremo anche a confronto, e Gesù, perdonatemi, non è per così millanteria o per vanagloria, Gesù non teme confronti con maestri. Lui è il maestro dei maestri, è il Signore dei signori. Anzi, lo vediamo così disponibile che verso mezzanotte un uomo gli va e lo trova sempre disponibile. Voglio dirti questo prima di iniziare ogni realtà. Sappi che il Signore lo troverai disponibile a qualsiasi momento, non gli darai mai nessun disturbo. Lui non ti accoglie su appuntamento, basta che lo invochi lì dove sei ed egli ti tirerà fuori. È l'unico maestro che ho trovato disponibile nella mia vita. Siete d'accordo? E quindi dicevo, non temeremo il confronto, non io, ma la parola del Signore, nella sfida. Io vorrei portare a volte anche i presenti a una considerazione e perché no anche a delle sfide. Perché la vita si tratta di una sfida. Ci sono quelli che sono convinti che la vita va in un certo senso e quella è una sfida perché poi alla fine quando tiri le somme devi essere sicura di quello che hai fatto. Devi essere certa che quando ti presenterai davanti a Dio è tutto a posto. La vita è una sfida a 360 gradi. E quindi il Signore non accetta le sfide ma accetta i confronti. Lui non ha bisogno di sfidare nessuno. Lui è accomodante. Ed è interessante questa realtà. Come ieri anche oggi emergono tante figure. Avete letto la storia parla di un matrimonio che è venuto a mancare il vino. Un po' ci parla di quella che era la cultura del tempo, quella che era in qualche modo i costumi del tempo, che era, perdonatemi, un po' come una dote. Qui se non fai calcoli nei matrimoni e chi ti sposa. Qui se non è tutto programmato. E quando è tutto programmato devi andare tutto liscio perché appena manca il sentimento, l'amore, finito il vino, la gioia, il matrimonio va in crisi. Ed è interessante perché a questo matrimonio fu interpellato, pagato, chiamato un maestro di tavola. Un maestro di tavola, avete letto, prendete i recipienti e portatele al maestro di tavola. Era quello che doveva organizzare, che tutto dovesse andare in un determinato modo, tutto dovesse, io uso un termine così semplice, tutto doveva filare liscio. Era stato in qualche modo ingaggiato, si può dire questo termine, si può usare questa parola, era stato interpellato perché a quel matrimonio, in quella circostanza, il professionista professionista doveva pensare a tutto. Ed è importante questa realtà. Un maestro esperto organizzatore, io dico di matrimonio, un maestro dall'altra parte che è dottore, un capo dei giudei, esperto in affari religiosi e li metteremo un pochettino a confronto perché da una parte, da un lato si parla di un maestro a livello matrimoniale, sociale, sentimentale, e ci sono professionisti sentimentali e dall'altra parte uno è un pochettino un maestro più pregiato, questo è quello che dovrebbe bandare la gente in cielo, il maestro di Israele. E tu sei un professionista di religione e non sai queste cose. Ora se poco male se viene a mancare il vino in un matrimonio, si tratta di un problema diciamo così che resta a livello sociale, anche se è una tragedia, la società si fonda sull'unione della famiglia, se si sgredda la famiglia la società va a rotoli, siete d'accordo su questo? Su che cosa si fonda l'unione della società? Sull'individuo, sulla famiglia. Noi stiamo vivendo di nuovo, stiamo ripercorrendo il problema dell'impero romano dove si viene a sgretolare la famiglia, dove c'è il divertimento, c'è in qualche modo questa realtà della frenesia, della teatralità e poi abbiamo dato a Dio quello che è di Cesare e abbiamo dato a Cesare quello che è di Dio. Signore aiutaci perché noi vogliamo darti il nostro cuore stasera. Se siete d'accordo date gloria al Signore. E quindi maestri a confronto ognuno è esperto in un settore un matrimonio deve essere organizzato ci mancherebbe altro nei minimi particolari evitare ciò che è avvenuto in questa e a queste nozze l'imprevisto mesi anni per far coincidere tutto al meglio no è così la vita ci si deve programmare si deve meditare si deve studiare si chiamano i professionisti perché nulla deve essere lasciato al caso tutto deve essere ben organizzato gli invitati la casa il viaggio tutto quello che può in qualche modo corredare una vita una famiglia un matrimonio la cosa più importante per degli sposi è quella di tutte le cose devono essere fatte in un modo perfetto ma in questo matrimonio quello che era chiamato a risolvere i problemi l'unica cosa che sapeva fare è solo sapere quello che è buono e quello che era meno buono ma non può dare gioia dove non c'è gioia non può dare pace dove non c'è pace la mamma di Gesù non andò dal maestro di tavola e disse non hanno più vino perché i professionisti possono solo sapere quello che è perfetto quello che è in qualche modo docco quello che non è di buona provenienza tutto lì possono capire e scegliere e discernere quello che può andare e quello che non può andare ma non possono fare miracoli non possono unire un marito e una moglie non possono mettere gioia dove c'è guerra non possono mettere pace dove c'è paura solo un maestro lo può fare solo uno può cambiare l'acqua in vino solo uno può dare la gioia dove non c'è ed è Gesù Cristo il Signore della gloria se siete d'accordo date gloria a Dio ed è una realtà quella che avviene la crisi in questo matrimonio perdonatemi il paio passo oltre gli imprevisti in un matrimonio ci può avvenire nella vita sociale lavorativa anche e noi ci affidiamo ai professionisti nei momenti difficili la crisi in questo matrimonio è venuto a mancare e come si fa? a chi dobbiamo rivolgerci quando manca qualcosa? amici fratelli quando manca qualcosa voi a chi vi rivolgete? a dei professionisti? perché ci sono professionisti in ogni settore a livello sociale gli imprevisti in un matrimonio ma voglio farvi una domanda perdonatemi anche una provocazione è chi offre garanzie alla vita? chi maestro può garantire che una cosa che inizia in un modo può finire nello stesso modo? in questo episodio si parla di un matrimonio ma possiamo mancare il discorso a 360 gradi è venuto a mancare il vino ecco perché è venuto a mancare la luce possiamo fare un discorso a 360 gradi è venuto un imprevisto e chi può garantire fratelli sorelle amici che quello che inizia bene finisce bene solo uno lo può fare la Bibbia dice che l'opera che il Signore ha iniziato in noi la può portare a compimento vado avanti se ha finito rischiamo che poi finisce la corrente o la benzina forse ma io sono convinto che il Signore ci farà arrivare fino alla fine quindi vedete Dio in questo caso Gesù mentre questo maestro venne preso alla sprovvista non può risolvere il problema può solo constatarlo voglio infierire ancora un po' scusate che cosa me ne faccio di un professionista che non può risolvere i problemi e può solo dire ma c'è un problema anche i bambini lo sanno ah in questo matrimonio c'è un problema ma questo lo sanno anche i figli io non ho bisogno di un professionista di un maestro di un dottorato di uno psicologo di un illuminante che mi dice tu hai dei problemi io ho bisogno di chi me le risolvi i problemi non di chi me le venga a sottolineare oh guarda in questa famiglia c'è un problema ma ma sì veramente li puoi risolvere i problemi no io so solo che c'è un problema e perché pagare delle persone dove ci vengono a dire che abbiamo dei problemi noi già lo sappiamo noi abbiamo bisogno di un medico che ci risolvi i problemi il medico dell'anima ed è giusto cristo il figlio di dio possiamo dare gloria al signore poca cosa se a livello sociale a livello lavorativo viene a mancare qualche sostegno e se il maestro di tavolo non aveva una soluzione il secondo maestro o l'organizzatore perdonatemi non di un matrimonio ma della vita religiosa tu sei un maestro in israele e non sai queste cose scusate ma la gente che andava da Nicodemo che cosa imparava? i canti imparava a leggere la Bibbia ma questo uomo non poteva mandare nessuno in cielo questo uomo non poteva garantire l'ingresso in cielo a nessuno tu sei maestro e come possono avvenire queste cose? ma come? tu vai in chiesa leggi la Bibbia e non hai un cuore nuovo? no io ho imparato a fare le preghiere e il cuore nuovo chi te lo può dare? se tu non nasci di nuovo ecco la differenza tra un professionista e il maestro dei maestri c'è uno che parla delle cose di Dio e uno che è il vero Dio Gesù Cristo il nostro salvatore il mio e il tuo salvatore a lui sia la lode e la gloria possiamo dare gloria a Dio pensate se il secondo Nicodemo la sua professione lo abilitava nel garantire alla gente alle folle l'ingresso nel regno di Dio un dottore in israele il quale non conosceva che bisogna nascere di nuovo ci vuole del nuovo nella tua vita nel mio cuore ci vuole una fede una fede viva ci vuole una pace sincera ci vuole un cuore come disse Davide Dio crea in me un cuore nuovo non ci vuole una religione nuova ci vuole l'incontro con il vero Dio il maestro dei maestri il signore dei signori a lui sia la lode e la gloria pensate a queste affermazioni se il maestro Nicodemo non può garantire ai suoi seguaci l'ingresso nel regno di Dio a che cosa servivano allora le sue lezioni sulla Bibbia leggiamo la Bibbia e la gente rimaneva sempre attaccata ai vizi leggiamo un passo della scrittura e la gente andava a casa e il matrimonio andava in crisi e che cosa serve andare in qualche luogo dove si parla di Dio e non si realizza Dio questo faceva il maestro Nicodemo tu insegni ma non puoi garantire alla gente una vita nuova tu leggi la Bibbia ma la gente non può entrare nel regno dei cieli perché nel regno dei cieli non si entra leggendo la Bibbia ma affinché questa parola ti entra nel cuore se tu non nasci di nuovo non entrerai nel regno dei cieli ah ma io sono diventato sto frequentando quella comunità si parla bene Nicodemo era un maestro parlava bene era un professionista di religione avrebbe dovuto indicare la gente dire seguite quella strada andrete in cielo neanche lui ci andava pensate un po' a chi affideresti tu la tua crisi esistenziale a quale professionista se tu ti dovessi trovare in una difficoltà sociale lavorativa matrimoniale va bene hai i tuoi metodi e se stai vivendo una crisi spirituale chi è il tuo mentore a chi ti rivolgi chi è il tuo punto di riferimento chi è il tuo maestro pastore un sacerdote un sacerdote chi è che può risolvere la guerra che hai nel cuore chi quando le luci sono spente in casa hai messo a coricare i figli tuo marito pensa che è tutto a posto e tu piangi chi è il tuo professionista quando fingi e dici tutto bene invece ci sono dei conflitti interiori e non riesci a trovare pace chi è il tuo punto di riferimento spirituale tu sei un maestro di Israele e non sai dire alla gente che deve nascere di nuovo d'acqua e di spirito due affermazioni e concludo le espressioni di questi due maestri i quali affermano una verità indiscutibile il primo disse tu invece abbiamo letto al capitolo 2 al verso 10 lui dice ognuno serve prima il vino buono poi quando si è bevuto abbondantemente il meno buono poi fa un'affermazione tu invece non sei come me io sono un maestro di tavola dovevo garantire che in questo matrimonio nulla accadesse o diciamo così di una defiance di un problema e non sono stato capace di risolvere i problemi posso solo avvertire c'è un problema in questa sera tu invece hai cambiato tu hai risolto i problemi tu hai conservato il vino buono fino alla fine tu invece io no io posso solamente sottolineare io posso solamente individuare io posso solamente indirizzare tu invece hai mantenuto la gioia in questa vita fino alla fine tu gli hai garantito la serenità se siete d'accordo date gloria a Dio è il maestro di Israele una bella responsabilità un bel titolo maestro di Israele di una nazione e lui dovette affermare mi avvio veramente alla conclusione questa realtà guardate ascoltate Nicodemo replicò gli disse nessuno può fare questi miracoli che tu fai io non riesco a farli ma tu sì perché qual era la differenza di Cristo a Nicodemo lui era un dottore di religione ma non poteva dare a quanti siedono qui stasera sotto questi gazebi una nuova prospettiva poteva dargli solamente delle indicazioni religiose ma non poteva garantire pace Gesù ha detto io non vi do la pace come il mondo la dà ma come io la do io sono il principe della pace siete d'accordo o no? nessuno può fare questi miracoli che tu fai oh tanti parlano bene tanti attirano le folle hanno dei bei progetti dei bei programmi ci sono chiese che iniziano in un certo orario e finiscono con un certo orario attirando folle gente pieni di impegni ma non possono dare a quanti ne hanno di bisogno un cuore nuovo e un'anima nuova tristi sono entrati hanno assistito a un programma e tristi se ne vanno e hanno bisogno sempre di ripetere certe esperienze ma se Dio è con noi chi sarà contro di noi chi ci separerà dall'amore di Dio possiamo dare gloria al Signore tu fai nessuno può fare quello che tu fai Nicodemo poteva insegnare poteva conoscere la storia biblica ma non poteva dare alla gente quello che aveva di bisogno una vita nuova poteva assolutamente garantirgli un posto in chiesa ma non poteva garantirgli un posto nel cielo uno solo è il mediatore fra Dio e gli uomini uno solo è il Signore il Re dei Re e il Maestro dei Maestri è Gesù Giovanni Battista non disse seguitemi io sono la voce di uno che grida nel deserto di quale battesimo disse Paolo a quei discepoli siete stati battezzati oh nel battesimo di Giovanni ma non basta ma quello è un battesimo fatto nel nome di un uomo è in vista del ravvedimento siete stati battezzati nel nome di Gesù nello Spirito Santo Giovanni Battista non disse io sono Maestro ma lui disse c'è bisogno che Gesù cresca e io diminuisco seguite lui seguite Gesù ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo abbiamo bisogno di una religione che ci dica che siamo nei problemi ce n'è un'infinità di religioni che dicono che siamo nei problemi abbiamo bisogno di professionisti che ci dicono che nella società ci sono problemi basta accendere la radio la televisione tutto quello che volete dicono che noi stiamo vivendo nei problemi niente di nuovo fin qui e chi ce lo risolve i problemi e non parlo solo dei problemi sociali poca cosa e chi dovremmo seguire per risolvere i nostri problemi eterni c'è qualche negozio qui a Bellaria che se avete bisogno di un chilo di pace ve la vendono ce l'avete qui se sono un po' battuto un po' di pace ma vado lì vi compro 10 euro di pace c'è? non c'è? peccato da noi ci sono abbiamo professionisti che vendono pace qui no allora noi napoletani veniamo a vendere un po' di pace così facciamo un business chi ci dà la pace? chi ci dà la certezza? i vostri nomi sono scritti nel libro della vita concludo di che cosa hanno bisogno le famiglie? di vino? anche quello è buono di danaro? che cosa hanno bisogno le generazioni? che gli risolviamo i problemi lavorativi? eh perché se viene uno oggi e ti risolvi i problemi lavorativi quello è Dio e l'anima? poi ce la discutiamo con Dio o no? si dice così? quando si muore andiamo da Dio e diciamo io io a quale maestro professionista hai affidato la tua vita? sapresti riconoscere un maestro di fede che può garantirti il cielo o fare cose che nessun altro maestro sulla terra può operare può il tuo mentore salvare può il tuo mentore il tuo maestro il tuo professionista perdonare i peccati può il tuo professionista spirituale scrivere il tuo nome nel libro della vita e dire non ti preoccupare garantirò io per te lo può fare non cercare una chiesa anche se ci sono chiese grazie a Dio che predicano la verità ma cerca Gesù e lui ti indicherà la via Gesù ha detto io sono la via la verità e la vita lui è l'unico maestro chiniamo i nostri cavi grazie a tutti grazie a tutti